Il giorno che i morti persero la strada di casa, questo è il titolo di uno dei racconti di Andrea Camilleri che narra l'antica tradizione del giorno dei morti in Sicilia e di come dopo la seconda guerra mondiale si è andata scemando. Ecco le parole di Camilleri. Fino al 1943, nella nottata che passava tra il primo e il due di novembre, ogni casa siciliana dove c'era un picciriglio si popolava di morti a lui familiari. Non fantasmi con l'insolo bianco e con lo scruscio di catene, si badì bene, non quelli che fanno spavento, ma tali e quali si vedevano nelle fotografie esposte in salotto, consunti il mezzo sorriso d'occasione stampato sulla faccia. Il vestito buono, stirato a regola d'arte, non facevano nessuna differenza coi vivi. Noi nei carelli, prima di andarci a coricare, mettevamo sotto il letto un cesto di vimini. La grandezza variava a seconda dei soldi che c'erano in famiglia, che nottetempo i cari morti avrebbero riempito di dolci e di regali, che avremmo trovato il due mattina al risveglio. Eccitati, sudatizi, faticavamo a pigliare sonno, volevamo vederli i nostri morti mentre con passo leggero venivano a letto, ci facevano una carezza, si calavano a pigliare il cesto. Dopo un son agitato ci svegliavamo all'alba per andare alla cerca, perché i morti avevano voglia di giocare con noi, di darci spasso, e perciò il cesto non lo rimettevano dove l'avevano trovato, ma andavano a nasconderlo accuratamente, bisognava cercarlo casa a casa. Mai più riproverò il batticuore della trovatura, quando sopra un armadio, dal re una porta, scoprivo il cesto stracolmo. I giocattoli erano trenini di latta, automobiline di legno, bambole di pezza, cubi di legno che formavano paesaggi. Avevo otto anni quando nonno Giuseppe, lungamente supplicato nelle mie preghiere, mi portò dall'aldilà il mitico Meccano e per la felicità mi scoppiò qualche linea di febbre. I dolci erano quelli rituali, detti dolci dei morti, marzapane modellato e dipinto da sembrare frutta, rami di meli fatti di farina e miele, mustazzola di vino cotto e altre delizie come biscotti reggina, tetù, carcagnette. Non mancava mai il pupo di zucchero, che in genere raffigurava un bersagliere con la tromba in bocca o una coloratissima ballerina in un passo di danza. A un certo punto della mattina, pettinati col vestito in ordine, andavamo con la famiglia al Camposanta a salutare e a ringraziare i morti. Per noi picciritti era una festa, sciamavamo lungo i viottili per incontrarci con gli altri amici, i compagni di scuola. Che ti portarono quest'anno i morti? Domanda che non facemmo a Tatuzzo Prestia, che aveva la nostra precisa età quel 2 novembre, quando lo vedemmo ritto e composto davanti alla tomba di suo padre, scomparso l'anno prima, mentre reggeva il manubrio di uno sparlucicante triciclo. Insomma, il 2 novembre ricambiavamo la visita che i morti ci avevano fatto il giorno avanti. Non era un rito, ma un'affettuosa consuetudine. Poi nel 1943, con i soldati americani, arrivò Macari l'albero di Natale e lentamente, anno a presso anno, i morti persero la strada che li portava nelle case dove li aspettavamo, felici e svegli fino allo spasimo, i figli o i figli dei figli. Peccato, avevamo perduto la possibilità di toccare con mano materialmente quel filo che lega la nostra storia personale a quella di chi ci aveva preceduto e stampato, come in questi anni ci hanno spiegato gli scienziati. Grazie Grazie Grazie